Buonasera, sono qui invitata dalla Proloco di Belmonte che organizza ogni anno questo premio intitolato Galeazzo Tarsia, un premio che si basa di solito su un premio storico perché si parla di ricerche storiche e loro fissano un tema e invitano poi gli appassionati a cimentarsi. Mi pare una cosa molto bella perché io dico che questi piccoli borghi a parte la bellezza insita che hanno proprio nelle pietre che parlano di queste storie, di questa storia, di queste storie antiche è bella perché io credo che noi abbiamo tanto bisogno, tanto bisogno di cultura, ma tanta che appunto queste iniziative costituiscono sicuramente un momento della tessitura culturale di cui questa nostra terra ha bisogno, tutte le terre ne hanno bisogno, ma noi in particolar modo perché sembrerebbe che siamo un po' tagliati un po' fuori dai grandi circuiti, però sono iniziative sicuramente molto belle, vivaci, che vivacizzano, che stimolano e che fanno sì che questi paesi siano vivi nonostante quel depauperamento di popolazione perché lo spopolamento c'è, esiste purtroppo in questi paesi. Noi abbiamo un grande studioso dello spopolamento che è un mio, tra l'altro, amico antropologo Vito Teti, proprio glielo dicevo che sarei venuta qui e lui apprezzava l'iniziativa perché, ripeto, aiuta a tenere vivo il discorso culturale, aiuta a tessere, a far sì che questi paesi abbiano ancora da dire qualche cosa, oltre al discorso delle varie iniziative che sicuramente si affiancheranno a queste più strettamente specialistiche, in questo caso storiche. Grazie.